Una macchina a incisione laser è una sorta di stampante che permette di ritagliare alcuni supporti e intagliarne altri realizzando creazioni di qualità. La stampante a incisione laser mini VGL7BX20 da 20 Watt è un dispositivo versatile che permette di lavorare e incidere legno, bambù, cartone, plastica, pelle, circuiti stampati, oggetti in ossido di alluminio, metallo laccato e tagliare diversi supporti quali carte pesanti, cartone, tessuto non tessuto, legno leggero, acrilico, plastica sottile. Rispetto ad altri prodotti il vantaggio è sicuramente quello di avere a disposizione un oggetto di dimensioni contenute, molto facile da montare e con un'area di lavoro che comunque si attesta sui 330x190 mm. Il punto di forza è sicuramente la testina laser da 20 Watt la cui potenza può essere regolata in base al lavoro da svolgere e al risultato da ottenere. La precisione dichiarata è nell'ordine dei 0,05 mm. Durante il funzionamento del dispositivo il software controlla in tempo reale la profondità d'incisione, la potenza del laser, la precisione dell'incisione, il tempo di lavoro, la velocità di movimento, la dimensione del motivo oggetto di incisione e altri parametri. La stampante laser in questione è una macchina CNC computerized numerical control, che richiede l'invio di comandi in formato un code. È un aspetto che accomuna tutti i prodotti di questo tipo, indipendentemente dal costruttore, e che consente di indicare in quali punti accendere e spegnere il laser, come far muovere la testina e quale potenza utilizzare di volta in volta. Per il processo di stampa è possibile usare il noto software Opensource Laser Gible. Prima di accendere il laser sulla stampante è essenziale allontanare le persone che si trovassero nello stesso ambiente e indossare gli occhiali protettivi inclusi nella confezione. È inoltre essenziale lavorare in ambienti all'interno dei quali non vi siano oggetti infiammabili e proteggere adeguatamente le superfici sui quali si appoggia la stampante a incisione laser. Gli occhiali protettivi devono essere sempre indossati durante l'intera durata della lavorazione fino allo spegnimento del laser. È inoltre sempre bene evitare di incidere superfici che possano riflettere la luce del laser. La stampante a incisione laser Mini VGL7BX20 da 20 Watt compresa elettrica europea è disponibile in offerta a 146,99 euro fino al prossimo 30 settembre con spedizione dai magazzini europei. La promozione è valida salvo esaurimento delle scorte.